ben trovati al tg sordi di lecce 7 rigurgito fatale neonata muore nel letto dei genitori la tragedia è avvenuta a merine la bimba aveva appena 11 giorni inutili i soccorsi del 118 valorizzazione dell'anfiteatro romano grazie a nuove opportunità finanziarie a Roma l'incontro tra il sindaco Poli Bortone e il ministro per la cultura Giulie per porre le prime basi di un percorso che consentirà di investire nuove risorse economiche per la storia e l'archeologia di lecce tragedia sull'atricase lucugnano auto in veste due giovani, un morto e un ferito grave i due entrambi di nazionalità straniera erano a bordo di un monopattino inaugurato il bar sociale Alimenta il bar che si trova nel quartiere San Pio di Lecce è gestito da 10 giovani con diverse disabilità che sono stati formati grazie alla rete ed economia civile sale della terra il buco urbano dell'ex massa sarà cancellato entro il 2026 se riusciremo ad adempiere in tempo le nuove richieste della soprintendenza lo annuncia l'assessore vice sindaco Roberto Giordano Anguilla i 466 parcheggi tanto attesi invece potrebbero essere consegnati entro il 2025 i lecce sono i ragotti e si affida a Marco Giampaolo dopo il deludente pareggio contro l'Empoli al Via del Mare la società prova ad invertire il trend negativo di avvio campionato che ha relegato i giallorossi nelle ultime posizioni in classifica grazie a tutti